Let's go, facciamo un po' di content, dai Li dovevo tenere, però Facendo due conti, quando uscirà la roba che interesserà a noi Sarà un po' troppo tardi, quindi Meglio spendere almeno mille, dai Ci sta Cos'è, una settimana di farm? 200 sub, facciamo un mezzo di Eldritch Oscuro il cadrago del tuono Ci può stare, ci può stare, ci può stare, ci può stare Dai Io, era fake out questa? Infatti era fake out Ci sta pochissimo sull'evento Il vero sappiamo abbastanza Non è possibile Che in due settimane che non pullavo su questo account Mi abbia dato tre Eldritch in una multi Non è possibile Non voglio passare a quel lato Però c'è Konami che mi sta dicendo qualcosa qui Mi sta cercando di dire qualcosa Che in due settimane che non pui E non pui